Aumentano le nascite ma purtroppo anche le morti in crescita del 25% per il Covid. Il 2020 si conclude con un saldo di 30.234 abitanti per la città di Verbagna in calo rispetto ai 30.391 del 31 dicembre 2019. Si continua a confermare il trend negativo iniziato nel 2016. Dei residenti le donne sono in maggioranza 15.961, gli uomini 14.273, gli stranieri sono 2.691. I nati nel 2020 sono stati 180, 13 in più del 2019 e solo 28 sono i figli di stranieri. Ma purtroppo il dato sui decessi ha registrato una notevole crescita, probabilmente legata al Covid. I morti quest'anno sono stati 494 rispetto ai 388 del 2019, il 25% in più. Questo l'impatto dell'epidemia sulla città. I nuclei familiari sono 14.428, prevalentemente formati da single 5.786 e da due persone 4.306. In 3.146 hanno un figlio e 1.665 hanno due figli. Nettamente inferiore il numero di famiglie con tre figli, 273, mentre solo 43 ne hanno più di tre. Sono 1.826 le famiglie monogenitoriali, quelle con entrambi i genitori stranieri sono 157. Ci sono poi 11 persone che risultano senza fissa dimora.